Il 1932 è il giro della grande rivalità fra Binda e Guerra, i grandi protagonisti dell'epoca, ma a sorpresa il protagonista vero è questo bergamasco Antonio Pesenti di Zogno, lo chiamavano il gatto di Zogno. Protagonista però fu anche un tedesco, Hermann Buse, che era in testa alla classifica ed era difficile da battere. Nella tappa di Foggia, un tappone di 300 e più chilometri, Buse però forò 5 gomme. Si pensò anche a un sabotaggio nei confronti del tedesco. In ogni caso, Eberardo Pavesi, grande stratega dell'Alegnano, visto che tutti correvano su Binda, mandò allo scoperto questo Antonio Pesenti, che quel giorno andò fortissimo, guadagnò un sacco di minuti e riuscì a indossare e poi a conservare la maglia rosa contro Binda e contro Guerra e a vincere a sorpresa questo Giro d'Italia.